Sono appassionata della serie di Assassin's Creed e di Call of Duty, principalmente. Questa era off topic, però. Sono Alessia e sono una tecnica informatica in Amazon. Lavoro in Amazon da un anno circa. Mi devo mantenere gli studi, dato che faccio l'Università di Ingegneria Informatica del Software e sono il secondo anno. Qui posso crescere sia professionalmente che anche personalmente, perché ho l'opportunità di conoscere tante persone, sia molto simili, ma anche molto diverse da me. E questo è un gran vantaggio. Il mio è un team formato da circa dieci persone, sono l'unica donna. In famiglia sono l'unica femmina su quattro figli e anche le superiori ero l'unica ragazza su venticinque alunni. Fortunatamente non è mai stato un problema grande di discriminazione, a parte qualche battuta, però sono sempre riuscita comunque a farmi rispettare. La passione per l'informatica è nata quando ero molto piccola. Adesso per me è diventata una sfida più che una passione, perché mi tiene sempre stimolata. Mi chiedono spesso se non sono troppo giovane per questo lavoro. Mi fa molto sorridere questo. È importante che tutti vengano ascoltati, non come giovani donne e uomini, ma come professionisti nel loro ambito. Per me questo è equità.